Questa Costituzione la stanno modificando falsificando le firme degli emendamenti e questa cosa sta denunciando in aula e nessuno l'ha smentita. Mi auguro che tu risponda delle cose gravi che stai dicendo. Non è stato smentito né dall'autore né dal Presidente del Senato. Allora io dico, si può fare tutto, si può anche dire che la Costituzione non esiste, il regolamento non esiste, gli italiani sappiano che la Costituzione viene modificata ad usare il manovratore, dai funzionari in funzione di quello che vuole il Governo. Tutto il resto perde peso. Io sono poi a disposizione. Se facciamo rispondere a Marco, bisogna essere onesti. Se non siete onesti nel modificare la Costituzione, come lo siete nel gestire il Paese?